Barbara D'Urso, brutte notizie, nessuno approdo in Rai. Le parole dell'Ad. La conduttrice non approderà nell'azienda pubblica, l'Ad ha messo fine a tutte queste voci. Barbara D'Urso è lontana dalla televisione da diversi mesi. Tuttavia c'è da dire che un giorno sì e l'altro pure spunta qualche rumor sul suo futuro televisivo, soprattutto adesso che il contratto con Mediaset è finito definitivamente. Si ricorda che proprio in questi giorni il magazine Novella 2000 ha rivelato che l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 sarebbe addirittura contesa dalla Rai e da Discovery. Ma sarà vero? A smentire l'interesse della Rai ci ha pensato ladro Berto Sergio in un'intervista rilasciata al quotidiano La Verità. Con Barbara D'Urso nessuna trattativa, parole insomma che hanno lasciato poco spazio ad altre possibili interpretazioni. Barbara D'Urso lontana dalla Rai, ecco le parole dell'Ad. Successivamente ladro Berto Sergio, sempre in questa intervista rilasciata al quotidiano La Verità, ha anche tenuto a fare un'altra importante precisazione. Cosa ha detto? Ha rivelato di non conoscere neppure l'ex conduttrice di Mediaset, la quale continua ad essere al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in TV, non la conosco. C'è comunque da dire che sui social queste parole non hanno però gettato nello sconforto i fan della presentatrice. Il motivo? Molti di loro hanno ipotizzato che le trattative si fanno per la prossima stagione TV, e non certo adesso che i giochi sono fatti da mesi, la nuova stagione inizierà tra 8-9 mesi circa. Potrebbe succedere di tutto. Dandolone era convinto, Ladurso potrebbe quindi approdare nell'azienda pubblica a partire dal prossimo settembre. Le ultime voci di corridoio hanno anche riportato che potrebbe prendere addirittura il posto di Francesca Fialdini e andare così a scontrarsi direttamente con Silvia Toffanin e il suo Verissimo. Ci saranno presto notizie in tal senso? La presentatrice ha sorpreso tutti i fan con un annuncio sui social. Si segnala che Barbara D'Urso, nonostante sia lontana dalla TV da diversi mesi, non ha la minima intenzione di lasciare soli i suoi fan continuando ad essere particolarmente attiva sui social. E proprio pochi giorni fa ha sorpreso un po' tutti mostrando il suo avatar nelle sue storie su Instagram. Non è dato sapere di preciso cosa bolle in pentola, ma l'ex conduttrice dell'ammiraglia Mediaset ha annunciato che sta lavorando anacremente ad un nuovo progetto legato al metaverso. Inutile dire che i suoi tanti supporter non hanno nascosto tutto il loro entusiasmo, nella speranza possano partecipare attivamente o comunque essere coinvolti in qualche modo?